... Incidente nella mattinata di martedì 29 agosto, poco dopo mezzogiorno, sulla provinciale 222 ad Uzzenia. Una Twingo, condotta da una donna di 45 anni, residente a Vidracco, ha urtato una Mercedes E120D e dopo aver tagliato la strada di un furgone che ha frenato in tempo, ha terminato la sua corsa sul prato dall'altro lato della careggiata, fortunatamente senza ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti la croce rossa di Castellamonte, l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 66, i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri. La donna è estratta dall'abitacolo e dopo le prime cure è stata trasportata all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. In leso...